Wahey Kooj, benvenuti in questo nuovo video, io sono Andrelink91 ed oggi torniamo su PuniPuni PuniPuni, evento in collaborazione con Nino Kuni, sempre prodotto level 5 Evento portali bizzarri Ovviamente i portali bizzarri in questo gioco funzionano diversamente dai portali bizzarri che abbiamo nella serie principale di Yo-Kai Watch Comunque sia, non dovrebbe essere troppo difficile Quindi iniziamo dalle quest dell'evento, che sono sempre sette La prima missione da fare è farci amico Haru Haru dovrebbe essere il personaggio che troviamo all'inizio nel primo livello In genere spesso è così Sì, è lui, quindi facciamocelo amico nel primo livello Dovrebbe venire automatico in amico Ma non ne sono sicuro, comunque sia poi lo vedremo Ok, completa il livello del castello di Evermore Dovrebbe essere questo Si chiama Estabania Non lo so, in inglese la traduzione che hanno dato dovrebbe essere Evermore Ma non ne sono sicuro Si, Evermore Palace Completa il livello 2 di Evermore Palace di giorno Poi lo andremo anche a vedere Questo è il lago Bisogna completare il livello 3 del lago Lago della purificazione Abbiamo Komashura a livello... no, Shurakoma Vabbè, hanno solo cambiato due termini Komashura o Shurakoma allo stage 28 Dell'evento, ovviamente Bisogna semplicemente sconfiggerlo Poi completa il livello 4 del palazzo di Evermore Di notte Uno è giorno, uno è notte Beh, sono diversi ovviamente Completa il livello 45 Battendo Koros E gioco almeno una volta l'attacco al punteggio Ok, ora Vediamo un attimino di iniziare Poi andremo a vedere anche le missioni Farò una cosa molto veloce Così vediamo anche come funzionano i portali bizzarri Ci sono sempre tre portali bizzarri Tre stanze diverse Cristallo, tesoro E quella del boss Che appunto sarà il boss Che dovete sconfiggere sette volte Fino appunto a farvelo amico Perché comunque sia quella C'è sempre la... Quando funziona così C'è sempre un boss da prendere Che è più forte di tutti Però bisogna sconfiggerlo sette volte Il che non è mai una cosa facile Vabbè, questo si fa piuttosto velocemente Ho anche giocato male Ma non importa Perfetto, iniziamo allora l'evento Con i portali bizzarri Come avete visto Haru è subito amico Senza troppo impegno Iniziamo col portale bizzarro Il numero uno Vediamo un po' La stanza del nemico principale O la stanza Ok, palazzo di Evermore di giorno Quindi questa funziona tipo Un portale è Evermore di giorno Un portale è il lago E un altro portale è Evermore di notte Perfetto Perfetto Ok, quindi quando è giorno Non possiamo curarci C'è solo il primo boss da affrontare Yoki Si chiama Ok, lui si chiama Yoki Io ragazzi devo ammettere Che non so molto di Ninokuni Quindi Perdonatemi se sbaglio Qualche termine O qualche Qualche personaggio Ma Non ne so davvero molto Dovevo inizio a giocarlo Ma poi l'ho abbandonato completamente Perché Boh Non lo so L'ho abbandonato e basta Ho giusto fatto il primo capitolo Che poi Mi sa che questo Ninokuni Non è quello che uscirà Poi per Nintendo Switch Che intendo recuperarlo E magari portare anche la serie sul canale Perché è un gioco molto di nicchia Ninokuni In Giappone ha venduto Ma in occidente Non è che abbia fatto Chissà quale grandi vendite L'avranno comprato In quattro persone Quindi voglio portarlo sul canale Perché è una serie molto interessante Da quello che ho visto Ho visto poco Ma da quel poco che ho visto Sembra molto interessante Bene Primo livello completato La ricompensa era una medicina potente Che poi sarebbe la ricompensa Che abbiamo trovato Dentro al forziere Perché ogni stage Bene o male Ha un forziere Ok sì Il palazzo di Evermore di notte Ha Haru Con l'armatura oscura Eccola qui La sfera del portale Che direi di andare Ad utilizzare subito Per vedere insomma Haru Cavaliere oscuro Posso sceglierla Ah Perfetto Quindi Come funziona Il lago di notte Ha delle reward migliori Per quanto riguarda Medicine E punti yokai Addirittura Mentre livello 2 Vi fa combattere Contro yoki Che penso alla fine Possa anche diventare amico Mentre Haru Dark Knight Andiamo ad affrontarlo ora Che poi sarebbe I boss Che C'è la possibilità Di prendere Una volta sconfitto Per sette volte Nel suo regno Quindi Ok Penso di aver già completato Addirittura qualche missione Sì Vedete Quando ci sono i 30 minuti È perché È il boss Di questo Di questo evento Il boss principale Dopo andremo anche a fare le missioni Quindi insomma Abbiamo anche capito come Si sblocca Il castello Di notte E vi dirò anche Come sbloccare Ovviamente I livelli Nascosti Perché sono anche quelli interessanti Non sono da sottovalutare Comunque sia A inizio evento Il primo regalo Che si riceve È un personaggio Puni Di Nino Kuni Che Mi sembra aumenti Qualcosa nel gioco Ma non ho visto ancora cosa Anzi Lo vado a prendere E vediamo subito Cosa aumenta Eccolo qua Mettiamolo a posto Di Di Goenji Nino Kuni Poi ha dei personaggi Davvero particolari Il design Dei personaggi È davvero Sottile E Lineare Mi piace Molto Forme morbide Dovrebbe essere Una femmina Credo Ma non Forse No non è quella Che abbiamo visto Prima di The Reward Non mi sembra lei Però non so cosa fa Se aumenta i punti Yokai che riceviamo Perché se aumenta i punti Yokai Per farmare Questo Yokai In questo evento È una È una manna dal cielo Certo però è che Se avete Goku no Insomma È una cosa Piuttosto semplice Dopo Con quello Diventa molto semplice Farmare negli eventi Insomma Nonostante fosse facile Mi ha fatto troppi danni Per essere primo livello Non va affatto bene Completando il primo livello Si riceve una spera Del portale bizzarro Facciamo un altro portale bizzarro Vi faccio vedere Il lago Che secondo me È abbastanza carino Eccolo E questo Ha le reward migliori Di tutti quanti I portali bizzarri Ragazzi Ve lo dico Ok Qui La barra Del fever time Si carica molto lentamente Però non è un problema Finiremo prima Ovviamente Orochi triple S Si carica sempre Velocemente Perché È la sua particolare abilità Caricare Velocemente L'energy max Ah Questo è quel fantasmino Che si appende Per Per augurare Buona sorte Tipo i bigliettini Del desiderio Che si appendono Mi sembra che tu Appendi quel pupazzo Esprimi un desiderio E magari Eventualmente Dovrebbe avverarsi A quanto pare Abbiamo finito Erano solo due livelli Reward Tonno E monete No Quindi portali bizzarri L'abbiamo visti Direi di andare a vedere La cosa importante Che sono le Missioni Che credo di aver già completato Qualcosina Ok Vediamo un po' Un attimino Come funzionano Ah ok Ok Questo è di mandare Tanti spiriti Agli amici Come funziona Gli spiriti Possono essere mandati A tutti gli amici Che avete Una volta Ogni ora Ovviamente Non è che dovete Per forza Arrivare Alla fine Però se volete Prendere il libro Delle abilità Insomma 50 spiriti Sono quelli richiesti Andiamo a vedere Le missioni Di Ninokuni Ninokuni Livello 2 Completano In meno Di 100 Secondi Facile Insomma Dai Completano Stage 5 Utilizzando Meno di 5 Energy Max Si fa pure questa Poi andiamo avanti Completano Stage 9 Con solo Yokai Di rango B In squadra Completano Stage 13 Senza utilizzare Continua Raccogli 35 stelle Nella prima mappa Completa 3 delle 5 Missioni Per ricevere 100 punti Yokai Completa Tutte e 5 Le missioni Per ricevere Una moneta 5 stelle Andiamo nella Seconda mappa Completa Lo stage 14 Con almeno 17 combo Completa Lo stage 21 Con Peraperion In squadra Ah Leonguista Con Leonguista In squadra Ah L'avrete preso Leonguista Si Se siete arrivati Ad Arachidia L'avrete sicuramente Preso Completa Lo stage 28 Quello di Komashura Con solo Yokai Di rango B In squadra E senza Usare Continua Potrebbe essere Difficilotta Completa Lo stage Segreto Numero 1 Con massimo Due tribù Diverse Di yokai In squadra E ora vi dico Anche come Completare Gli stage Segreti Nello stage 19 Connettete Con una linea Sola Senza alzare Il dito 10 o più Puni Quindi Mi raccomando Senza alzare Il dito Connettetene Almeno 10 Questo livello È il livello Di nonno ciccio Ora Nonno ciccio Serve Assolutamente Come amico Per poter Accedere Al secondo Livello Segreto Per accedere Al secondo Livello Segreto Completa Lo stage 29 Con Nonno ciccio In squadra Quindi Se l'avete Riclutato Nel primo Livello Segreto Potrete Poi Usarlo Nel livello 29 Per accedere Al secondo Livello Segreto In genere Il boss Del primo Livello Segreto Non è Mai Troppo Difficile Quindi Ricapitolando Completa Lo stage Segreto Numero 1 Con Seconda Mappa E Completa Tutte Le Missioni Della Seconda Mappa Terza Ed Ultima Mappa Completa Lo stage 32 Utilizzando Meno Di 4 Energy Max E Senza Usare Continua Mi fa Pensare Che Sia Uno Stage Piuttosto Difficile Completa Lo stage 37 Con Nonno Ciccio In Squadra E Senza Usare Continua Completa Lo stage 45 Con Solo Yokai Di Rango A In Squadra E Senza Usare Continua Questa È Ricorrente Completa Lo stage Segreto Numero 2 Con Massimo 1 Tribù Di Yokai In Squadra Colleziona 50 Stelle Nella Terza Mappa Completa 3 Delle 5 Missioni Da Terza Mappa E Completa Tutte Le Missioni Della Terza Mappa Questo Era Tutto Quello Che c'era Da Sapere Per Questo Evento Io Andrei A Fare Un Paio Di Slottate A Meno Che Non Sono In Saldo Mai Nella Vita Fino Al 15 Settembre Vediamo Un Po C'è La Possibilità Di Prendere Qualcosa Interessante Questa Che Questo Era L'Evento Per Yo-Kai Watch Puni Puni Collaborazione Con Ninokuni Io Come Sempre Spero Che Il Video Vi Sia D'aiuto Per Risolvere Insomma Se Non Tutte Almeno Buona Parte Delle Missioni E Delle Quest Come Sempre Vi Ringrazio Per Per Seguito Il Video Vi Ricordo Che In Descrizione C'è Il Link Per Instagram Dove Pubblico Tutti Quanti Gli Bye Bye Yeah Chau 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 Chau